Abusi sessuali sul nipote 12enne carabinieri assolto dalla Corte d'Appello. Sentenza della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Catania, presidente Loretana Pezzino, a conclusione di una lunga Camera di Consiglio, i giudici hanno pronunciato la sentenza nei confronti dell'appuntato dei carabinieri della stazione di Melilli, annullando la sentenza di condanna a 7 anni e 6 mesi, inflitta all'imputato dal Tribunale Penale di Siracusa, composto dal presidente Salvatore Cavallaro, all'atere dai giudici Antonio Dami e Federica Piccione. L'appuntato è stato di difesa dagli avvocati Puccio Forestiere e Fabiola Fuccio, i quali, a conclusione della rispettiva ringa, hanno chiesto la soluzione del graduato dei carabinieri per insossistenza degli indizi di reità e per assoluta mancanza di prove. Da quanto emerso nell'inchiesta dei magistrati della Procura di Siracusa, le violenze sarebbero state commesse nel 2009, per cui il militare venne condannato nel marzo del 2021 dal Tribunale di Siracusa a 7 anni e 6 mesi di reclusione e la sospensione dall'arma dei carabinieri. Gli avvocati Puccio Forestiere e Fabiola Fuccio sono riusciti a convincere i giudici di secondo grado dell'infondatezza della ricostruzione del PM della Procura di Siracusa, che nella sua requisitoria aveva sollecitato la condanna, oltre all'interdizione dai pubblici uffici, e una provisionale di 20.000 euro per la vittima, adesso maggiorenne, e la madre, che si sono costituite in giudizio. A quanto pare, sulla scorta delle testimonianze raccolte nel corso delle indagini, gli abusi sessuali si sarebbero consumati in quell'abitazione quando il 59enne e il nipotino si sarebbero trovati da soli. L'appuntato, separato dalla moglie, ha sempre sostenuto di essere stato vittima di una macchinazione.